Ben ritrovati con il telegiornale di Arezzo TV, un'altra tragedia della strada si è portata via una vita giovanissima, una ragazza di 15 anni. Ci dice tutto Chiara Sadotti. Stava tornando da una breve vacanza assieme alla mamma e al compagno di lei, il drammatico schianto nel viaggio di ritorno verso il Casentino, a pochi chilometri da casa. Così ha perso la vita Kasia Buscema, una giovane di soli 16 anni, morta sul colpo in uno scontro tra diversi mezzi in autosole, tra fabbro e chiusi in direzione nord, nel quale sono rimaste ferite altre tre persone. Sulle cause dello scontro, che ha provocato anche la temporanea chiusura dell'autostrada, stanno svolgendo gli accertamenti gli uomini della polizia stradale di Orvieto, intervenuti assieme mezzi di soccorso e vigili del fuoco. Secondo una prima ricostruzione, la ragazza si trovava nel sedile posteriore. A causa del violento impatto, è sbalzata fuori dall'abitacolo dell'auto. Per lei non c'è stato nulla da fare. Gravissima anche la mamma, che solo stamani è stata dichiarata fuori pericolo all'ospedale di Perugia, ferito anche il compagno. La ragazza frequentava il liceo scientifico di Poppi, viveva assieme alla mamma in Valle Santa. La notizia della morte della ragazza è subito rimbalzata nei comuni di Poppi e chiusi della Verna, dove oggi resta dolore e sgomento. Siamo veramente rimasti di sera scioccati da questa notizia, quando è arrivata e pensare che è una ragazzina del nostro comune. Una studentessa modello, così l'ha definita. Sì, veramente, che era brava, è stata brava sia nel percorso delle scuole comunali, ma anche nel percorso che aveva iniziato al liceo di Poppi. Un altro grave incidente era avvenuto nelle scorse ore lungo la E78, nella tarda serata di ieri, poco dopo l'uscita di Pieve al Toppo, in direzione di Monte San Zavino coinvolto un centauro, un motociclista di 49 anni, sul posto, un'ambulanza di Monte San Zavino e della Croce Bianca. L'uomo è stato poi trasportato con il Pegaso all'ospedale Fiorentino di Careggi, in codice rosso. Vendevano banconote false attraverso un canale Telegram, a scoprirli sono stati i carabinieri di San Sepolcro. Banconote false da 50 euro vendute via Telegram ed utilizzate per fare il rifornimento ai distributori di carburante. Questo quanto scoperto dai carabinieri della compagnia di San Sepolcro, che hanno chiesto anche l'oscuramento di un canale dell'applicazione di messaggistica attraverso il quale venivano messe in vendita ingenti quantità di banconote contraffatte. L'indagine era iniziata dopo il sequestro di una banconota da 50 euro falsa, che era stata scambiata in una stazione di servizio durante il rifornimento di carburante. Il gestore si era subito accorto di alcune anomalie sulla banconota, ma le fattezze erano comunque abbastanza realistiche da ingannarlo. Avendo sospetti ha comunque allertato i carabinieri che sono riusciti a risalire al veicolo utilizzato per il rifornimento e fermare i suoi occupanti, due giovani appena maggiorenni, adesso indagati per il reato di spendita di monete falsificate. Durante la perquisizione sono state trovate altre banconote da 50 euro in loro possesso, che sono state sequestrate. Attraverso l'analisi dei telefoni cellulari del sospettato, infine, i carabinieri sono riusciti a risalire al canale Telegram utilizzato per la vendita. Le transazioni avvenivano attraverso internet mediante l'utilizzo di carte di credito prepagate non intestate. C'era chi si era accorto di non essere più coperto dall'RC Auto e chi invece durante un controllo delle forze dell'ordine aumenta di giorno in giorno il numero delle persone che stanno raccontando di essere stati truffati proprio da un assicuratore a retino. La vicenda è finita in questura sul caso indaga la squadra mobile di Arezzo per verificare ovviamente i contorni della vicenda. Una situazione davvero paradossale anche perché secondo i racconti delle vittime l'assicuratore si sarebbe comportato bene appunto fino a poco tempo fa. Adesso parliamo di nuovo della vertenza FIMER. Come sappiamo le ultime notizie sono che l'azienda ha presentato la richiesta di un nuovo concordato al Tribunale di Milano dove si è spostata la questione giuridica. Oggi un'assemblea nella fabbrica di Terra Nuova Bracciolini dopo la quale i sindacati confederali hanno diramato una nota per puntualizzare che la situazione dell'azienda non è assolutamente imputabile al comportamento dei lavoratori. Come sappiamo la fabbrica è occupata da alcune settimane nella nota. Poi i sindacati descrivono anche la difficile situazione di crisi appunto che sta vivendo la fabbrica. Come sappiamo FIMER ha due stabilimenti. Uno a Terra Nuova Bracciolini, l'altro a Vimercate nella Brianza. Non sono i lavoratori, scrivono i sindacati, che stanno compromettendo il futuro dell'azienda. Le giornate di possibile produzione non sono oltre due o tre proprio perché appunto mancano soprattutto i materiali per la produzione. E poi i sindacati si esprimono appunto sulla decisione di presentare un nuovo concordato da parte dell'azienda che definiscono una proposta vuota e superficiale soltanto per conquistare ancora più tempo. Tempo che insomma a quanto pare l'azienda sembra davvero non avere. Parliamo adesso invece di una presa di posizione della presidente provinciale di Arcigay Veronica Vasarri. Questa sera tra l'altro c'è una cena di finanziamento per il Gay Pride che poi come sapete si svolgerà a Padova ospitata nella piccola frazione del comune di Civitella in Valdichiana, Cigiano, ma appunto la presidente si esprime su quello che sta accadendo proprio relativamente appunto agli atti di nascita dei figli nati nelle famiglie omogenitoriali. Sì, è preoccupante perché probabilmente ti riferisci a quello che è successo a Padova proprio nei giorni scorsi dove fondamentalmente è stato dato seguito a questa circolare ministeriale che qualche tempo fa ha detto sindaci smettete di trascrivere dei certificati di nascita di congenitori dello stesso sesso da ora in poi. La procura di Padova ha preso talmente alla lettera questa circolare che in maniera retroattiva in questo momento ha impugnato, non so il termine tecnico comunque sostesso, 33 trascrizioni, ma roba vecchia anche di 6 anni. Cioè questo vuol dire che ci sono bambini o bambine che non solo di fatto ma anche per la legge, il proprio comune a scuola appunto hanno due mamme, perché principalmente si tratta di coppie di donne in questo caso e da domani potrebbe rischiare di averne solo una. Ma come glielo spieghi in primis a un bambino, a una bambina che quella lì per lo stato italiano in realtà non è la sua mamma che non può avere il suo cognome, che lei da sola potrebbe non poter andare a prenderlo a scuola o accompagnarlo dal medico. Questo è molto, molto preoccupante. Ecco, non solo non si lavora per garantirli, ma addirittura si lavora per togliere quello che già di consolidato esiste. Io so che alcune famiglie arcobaleno del nostro territorio hanno già avviato un percorso, alcune addirittura anche con successo, non vogliono parlare e rispetto, adesso forse a maggior ragione la loro decisione, l'avrei rispettata comunque, ma la capisco ancora di più, perché immagino che vivano, ed è brutto dirlo, nella paura che comunque quello che è stato conquistato poi venga tolto. Esatto, ma che poi vuol dire non stiamo parlando di uno sfizio, non è che stiamo parlando del privilegio di fare chissà cosa, stiamo parlando di tutela di minori e purtroppo questo governo, diciamo che un po' ce lo aspettavamo perché le premesse erano queste, che in maniera un po' ideologica ha preso questa posizione nel difendere, nel sostenere un unico modello di famiglia, però in questo modo non capisco come non si rendano conto che ci va di mezzo appunto la tutela di bambini e di bambine, questa cosa si inserisce anche in un delicatissimo altro argomento che è la gestazione per altri, maternità surrogata, perché in questi giorni in Parlamento è iniziata la discussione di una legge per renderla reato universale, quindi appunto il tentativo è proprio quello di andare indietro e però insomma è una crociata, secondo me la dico proprio, è una crociata contro la comunità LGBT quando alle tecniche di fecondazione assistita e anche surrogasi il 98% delle persone che vi accedono sono coppie eterosessuali, cioè quindi proprio non capiamo. La difesa del suolo e la messa in sicurezza idraulica del territorio aretino rappresentano una priorità per la regione toscana in questo senso prosegue l'impegno e l'attuazione degli interventi programmati dopo l'alluvione lo ricorderete che colpì Arezzo nel 2019 con queste parole il capogruppo del PD in consiglio regionale Vincenzo Ceccarelli e la presidente della quarta commissione consigliare Lucia De Robertis salutano la prossima consegna dei lavori per il consolidamento arginale del torrente Castro-Bicchieraia nella città di Arezzo per un importo di circa 3,5 milioni di euro. Non trova soluzione invece il problema dei cattivi odori che lo ricorderete abbiamo seguito anche con la nostra redazione ormai da circa un anno viene segnalato dai residenti alle porte della città di Arezzo. Alcuni di loro li abbiamo incontrati proprio questa mattina. Sì, sta riprendendo il problema in maniera piuttosto violenta. Queste notti tra le 3 e le 4 siamo state svegliate dall'odore perché ovviamente è arrivato il caldo, si dorme a finestra aperta e l'odore ti sveglia. L'odore è molto forte, penetrante e dà proprio nausea. Quindi siamo molto preoccupati perché la storia va avanti da oltre un anno. E' dall'estate 2022 che i residenti delle zone di Lepoggiola, Battifolle, Ruscello, Chiani, Sanzeno, Via Valtoppo, Vicomaggio, Olmo, Ripa di Olmo, Pescaiola fino addirittura ad arrivare a Via Malpighi lamentano il problema dei cattivi odori soprattutto durante il periodo estivo. Questo cattivo odore è un odore molto pungente, ti entra nel naso ed è ciclico. ha una cadenza di 3, ogni 3 o 4 ore, poi dipende dalle condizioni meteo, può durare mezz'ora, può durare qualche minuto in più, qualche minuto in meno, però svegliarsi la mattina, dover di corsa chiudere le finestre o la notte oppure la sera semplicemente non poter aprire le finestre. Io ho due bambini, uno è un bambino di un mese, è nato da poco e quello odore entra in casa. In questi giorni di prima calura dell'estate 2023 l'aria, affermano i residenti, è stata davvero irrespirabile, come si legge anche dalle tante segnalazioni riportate sul gruppo Facebook nato proprio appositamente per questo. Ecco, l'anno scorso mi ricordo ci fu anche l'intervento dell'ambulanza in un caso, perché ci fu proprio un malore, seppur minimo, però insomma un malore. Si è ripresentato il problema anche nei giorni scorsi in località San Zeno, forte nausea e mal di testa a seguito appunto di una forte folata di cattivo odore. Io soffro di allergia da anni, però in quest'ultimo anno sto malissimo, come non stavo da decenni. Non so se anche questo incide sul problema. Nonostante segnalazioni, assemblee, interventi di Arpat e ASL, il problema permane e forse è anche peggiorato, secondo i racconti dei cittadini. No, il problema non è risolto al momento. Abbiamo fatto tantissimi incontri con ASL, Arpat, con vari assessori, però non ci sono risposte e soluzioni al problema al momento. È una limitazione della libertà di qualsiasi persona, non poter fare una festa in giardino, comunque mette a disagio la vita sociale in generale, quindi chiediamo naturalmente di trovare quanto prima una soluzione a questo problema. Siamo alla politica, Forza Italia dà il via al tesseramento nell'era post-Berlusconi, anche ad Arezzo in questi giorni abbiamo ricevuto tante telefonate, ha detto il coordinatore provinciale Bernardo Mennini, di persone che hanno sentito la voglia di tornare ad impegnarsi. Siamo in questo momento a 400 iscritti, ma vogliamo assolutamente aumentare i numeri perché siamo convinti che Berlusconi con la sua scomparsa abbia prodotto un altro miracolo, un lascito di emozioni, ma anche un ben identificato spazio politico dove i moderati si riconoscono e appunto si impegnano per i prossimi appuntamenti elettorali. Parlando sempre di politica, invece il capogruppo consigliare di Scelgo Arezzo, Marco Donati, ad invitare con una nota l'amministrazione comunale a ricordare Aldo Ducci nell'anniversario che ricorrerà nel mese di luglio della sua nascita. Esattamente il 23 luglio del 1993 appunto nasceva ad Arezzo Aldo Ducci. Un secolo in tutti i sensi, dice Donati, sia temporali che politici. Nel ricordare l'anno di nascita di quello che Donati definisce il sindaco degli Aretini è importante guardare all'epoca in cui ha ricoperto quella carica. Una città dove l'occupazione ha abbandonato l'ambito rurale per la fabbrica e prodotto un piccolo miracolo economico. alla conferenza dei capigruppo di lunedì prossimo conclude Donati proporrò che il consiglio comunale di luglio si apra proprio con uno spazio dedicato ad Aldo Ducci. Arriva dal mondo dell'agricoltura l'allarme rispetto alla mano d'opera che non si trova i raccolti, dicono le associazioni di categoria, sono a rischio. Le aziende agricole non riescono a trovare mano d'opera e così i raccolti sono a rischio. Questa la denuncia che arriva da Confagricoltura Arezzo. Stiamo parlando di un differenziale che si aggira sulle 1500 persone tra mano d'opera specializzate non, spiega il presidente Carlo Bartolini Baldelli. Ad essere in sofferenza sono tutte le imprese a prescindere dal luogo e dal genere di produzione. Il problema ormai non riguarda solo alcuni comparti e non solo gli stagionali, ma è generalizzato anche riguardo figure qualificate per l'agricoltura 4.0, un grido d'allarme che adesso è stato portato anche a Roma alla conferenza nazionale di Confagricoltura che ha coinvolto il mondo della ricerca del sindacato e il ministro del lavoro. Ogni anno che passa continua a crescere il fabbisogno di mano d'opera, prosegue Bartolini Baldelli. Il fenomeno sembra inarrestabile e non è solo una questione agricola, si tratta di un fenomeno dalle caratteristiche strutturali. Finora si è ricorso in modo crescente a mano d'opera straniera, ma anche questo canale non offre più risposte. Per questo occorre ridare dignità al lavoro agricolo e renderlo maggiormente attrattivo, conclude specialmente per i più giovani. Si è appena conclusa ad Arezzo l'iniziativa Riqualifichiamo Parco Fiorentina, prima edizione inserita nel progetto WePaint 2023 di Retake Arezzo. I retaker di Arezzo, con il partner dell'Università dell'Uklaoma e con la collaborazione dell'Associazione Castelsecco e la Casa Circondariale di Arezzo, si sono dedicati proprio al recupero del Parco Fiorentina in Via Emilia. L'iniziativa ha permesso di dipingere tutte le panchine, le loro basi di cemento con disegni geometrici e la parte di cemento dei lampioni, una vera e propria riqualificazione urbana. Una bella donazione alla pediatria del San Donato di Arezzo migliorerà le cure per i più piccoli. Il servizio. Due nuovi dispositivi per la pediatria dell'ospedale San Donato di Arezzo, grazie ai quali piccoli pazienti potranno essere monitorati direttamente al loro letto e i dati trasmessi in tempo reale agli operatori sanitari. Un'importante sinergia tra le nostre risorse e le risorse che può emettere la cittadinanza. Sono a favore del nostro reparto di pediatria e di neonatologia con questi strumenti che servono per misurare tutti i parametri vitali e che permettono anche a bambini di avere un servizio qualitativamente migliore. Due importanti macchinari del valore complessivo di quasi 10.000 euro. Una centrale di monitoraggio wifi con monitor multiparametrico e carrello portamonitor donato dalla sinergia fra i Lions, un'azienda del territorio e con il supporto del comitato a retino neonatologia. al cui si aggiunge un monitor per la misurazione dei parametri vitali sempre provvisto di carrello donato dal gruppo Frates Donatori Sangue e Rigutino. Il cuore dei Lions ha battuto ancora una volta per la pediatria donando uno strumento multifunzionale che è in grado di registrare, monitorare parametri vitali nei bambini che sono affetti da patologie impegnative. i Lions sono donne e uomini che vogliono portare il loro volontariato umanitario a favore della comunità retina. Sono monitor molto efficienti che monitorizzano una serie di parametri molto numerosi e vitali, importanti e la cosa più importante è che sono collegati, collegabili con una centrale monitor via wifi. Questa centrale monitora anch'essa frutto di donazione dell'associazione Lions. Siate pazienti è il titolo del congresso 2023 dei testimoni di Geova che si terrà ad Arezzo nell'arco dei prossimi quattro weekend. Sarà ospitato nei padiglioni dell'Arezzo Fiere Congressi a partire dal 30 di giugno. I momenti più attesi saranno il battesimo dei nuovi fedeli e un video racconto in due parti che sarà presentato durante le due sessioni del sabato e della domenica pomeriggio. Nell'arco di queste giornate di congresso sono attese ad Arezzo oltre 16 mila persone. Ed infine chiudiamo con la notizia della campagna abbonamenti dell'Arezzo. Non fartelo raccontare, questo è il titolo appunto della campagna che prenderà il via il prossimo 26 di giugno. Una frase che vuole essere un invito a colorare il città di Arezzo confermando ancora una volta l'importanza del pubblico aretino nel corso della stagione sportiva. La campagna abbonamenti si articolerà in due fasi. La prima sarà riservata ai vecchi abbonati che potranno rinnovare il proprio abbonamento allo stesso prezzo dello scorso anno entro e non oltre le 19 del 10 di luglio. Poi appunto si aprirà il via anche ai nuovi abbonati. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per la cortese e attenzione. Arrivederci.